Una chicca per voi. Siamo qui sul set di Un Posto al Sole. Il mio personaggio sta prendendo derive. Ormai ne sapete più voi di me. Che cosa devo fare? Io sono diviso tra due bellissime donne. Marina che è qui accanto a me. Ma come faccio a non stare appresso a Marina? Per quanto pure Greta, insomma, a un certo punto di vista, però... Voi mi capite? Capitemi voi. Capitemi voi! Bene. Stop. Grazie.